Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di Babaco Market che è un nuovo modo di fare la spesa stagionale a spreco zero e soprattutto basta soltanto un click Vi spiego subito, con Babaco Market potete ordinare la vostra box di frutta e verdura che viene selezionata a prodotti di stagione e vengono consegnati a domicilio voi dovete scegliere soltanto l'abbonamento settimanale o ogni 15 giorni e vi viene consegnato tutto a casa tranquillamente proprio questo per mantenere la freschezza del prodotto e appunto scegliete voi i prodotti di prima qualità Allora, ho ricevuto i cipollotti in questa box poi abbiamo la cicoria catalogna poi qui abbiamo le fragole provenienza dalla basilicata poi abbiamo i limoni abbiamo i cetrioli poi qui le zucchine bolognesi le carote poi qua abbiamo le nespole poi qui abbiamo gli asparagi e infine qui abbiamo ringrazio Babaco Market per questi fantastici prodotti non vedo l'ora di cucinare anche perché potete scegliere voi cosa mettere nella box decidere quanto frutta e verdura consumate e vi arriva direttamente tutta a casa quindi non dovete neanche uscire per andare a fare la spesa proprio grazie a Babaco Market per questa fantastica box grazie a tutti grazie a tutti